In Sicilia c'è un luogo dove la bontà prende forma. Dalli Cardillo, industrie alimentari. La tradizione del made in Italy. Conoscenza e tecnologia, ingredienti fondamentali. Pizzeria, ristorazione, GDO e retail. Solo le migliori materie prime fanno di ogni nostro prodotto l'unico. Mandorle ed acqua sono gli ingredienti essenziali del nostro latte di mandorla. Produciamo interamente il latte di mandorla, dalla materia prima al confezionamento. Buono, sano e naturale, il nostro latte di mandorla è ottimo in ogni stagione e per consumatori di tutte le età, come ogni nostra bevanda e crema. Solo il fiorfiore delle carni suine diventa un salume dalli Cardillo, lavorato da mani esperte. Una vasta gamma di bontà. Ogni prodotto a fine lavorazione viene analizzato e controllato nel nostro reparto qualità. Dagli ordini alla consegna della merce, controlliamo tutta la filiera. Esportiamo il buono dell'Italia, dalla Sicilia al mondo, con la passione e l'amore di sempre. Dalli Cardillo Diamo forma alla bontà.